ci siamo portati a casa il secondo acquisto ragazzi non l'avrei mai detto mai mai detto 800.000 euro a disposizione io non pensavo non posso credere a quello che cazzo ho appena visto come fai come si fa incredibile credibile guarda meglio de messi meglio de roberto carlos si roberto carlos proprio quello al prime non c'è niente a che vedere con angeligno o angelino fate voi io probabilmente lo chiamerò angelino è più bello angeligno è un nuovo calciatore dell'ess Roma siamo qui scherzi a parte ma non troppo per commentare questa operazione di calcio mercato con il nostro pure semplice parere personale daremo un voto in rapporto qualità prezzo daremo un voto per quello che secondo noi angeligno può dare per il futuro dell'ess Roma certo ciao ben ritrovati ragazzi lasciate mi piace ci fate capire che vi piacciono questi contenuti e che ne volete tanti altri se vi iscrivete attivate la campanella ogni volta che pubblicheremo qualcosa devi scurigia no me sta fai al collo resterete sempre aggiornati non vi perderete più nulla ci rivolgiamo a quelli che ci seguono sempre ma che ancora non lo hanno fatto se ci fate sto regalo per il 2024 ci fate tanto tanto piacere due canali di calcio un extra calcio in descrizione o compariranno qui se vi facciamo un regalo passate in descrizione c'è il tag di una pagina instagram non una pagina instagram qualunque una pagina instagram che parla di calcio e che lo fa in una maniera veramente professionale bello dal punto di vista stilistico ma anche dal punto di vista degli argomenti dice quale sarebbe il regalo vi regaliamo o meglio vi regalano settimana dopo settimana i biglietti vip non biglietti normali per andare a vedere la vostra squadra del cuore mi rivolgo ai tifosi di juve milan inter napoli roma e lazio ribadisco seguendoli semplicemente avrete la possibilità di partecipare al loro contest e di vincere tantissimi biglietti per lo stadio non vi costa niente link in descrizione detto questo entriamo nei meriti di questa operazione di calcio mercato perché ho sentito già qualcuno dire un altro bollito un altro giocatore finito un altro giocatore che inseregge in piedi un altro giocatore inutile per la s roma io vorrei sapere che cosa ne pensi te e dopodiché ribatto e ribadisco io partiamo dal fatto che c'ha 27 anni per cui non parliamo di un 35 anni non parliamo di un 46 anni parliamo del calciatore che forse al momento è ancora integro dal punto di vista sportivo dal punto di vista prestazionale magari ha avuto sicuramente una parabola un pochino in discesa rispetto a quello che abbiamo visto diciamo la verità perché comunque è stato secondo me un buon calciatore non è stato un fenomeno non è stato un campione è stato sicuramente un gran calciatore utile nel momento in cui sprazi è stato un calciatore importante ma non in questo momento esatto infatti ho detto è stato anche forse e soprattutto nel manchester city perché ragazzi ricordiamocelo viene da là e però te dico che secondo me nonostante la parabola discendente in questo momento per la roma può ancora essere utile calciatore che è un soprattutto un terzino di ruolo parliamo di un vero terzino non parliamo di nacio fega non parliamo di un ibrido tra un terzino e un esterno di fascia non parliamo di un calciatore che sa solo attaccare non sa difendere parliamo di un terzino che fa il lavoro suo ovvero stare sulla fascia e riuscire a starci diciamo che dal punto di vista difensivo io mi ricordo non è eccelso però un po desiderato dal punto di vista difensivo è un terzino fluidificante vecchio stampo parlami di un terzino vero e proprio che sa fare anche il compito difensivo walker probabilmente ma parliamo di walker ce ne sanno altri ma altrimenti non avremmo parlato di angelino come in campione diciamo che io angelino ovviamente non è in campione esatto però quello che io ti voglio di in parte sono d'accordo con te soprattutto dal punto di vista numerico dal punto di vista che a parte che spinazzola ragazzi tra infortunio e sta fuori due settimane e rientra non mi ricordo se al terzo quarto infortunio in questa stagione se non me sbaglio ho letto il terzo giustamente la roma se tutela anche da quel punto di vista dice o meglio secondo me è stato De Rossi a chiedere un rinforzo dice mo portamene pure uno che non che insereggia in piedi ma insomma uno che magari si deve un po rilanciare ma portami qualcuno e soprattutto portami in piede sinistro credo che sia anche quello che De Rossi ha chiesto fascia sinistra piede sinistro anche per piede tuo metti palino in mezzo bravo non ce l'hai perché non ce l'hai un mancino sulla fascia esatto tranne spinazzola e soprattutto se spera no spinazzola pure destro spinazzola è destro non ci stava a pensare se spera che riesca a mettere dei cross degni di questo nome in mezzo all'area che poi è sempre stato uno dei suoi punti di forza in realtà abbastanza rapido come terzino ribadisco più offensivo che difensivo dal punto di vista difensivo lascia a desiderare permettetemi di dirlo perlomeno a mio pure semplice parere personale ma credo sia abbastanza oggettivo e mettere i palloni in mezzo che è un qualcosa che a noi ultimamente ci manca potrebbe essere quel qualcosa in più secondo me non arriva per far titolare ragazzi arriva per fare semplicemente sei sicuro? sono sicuro sì se spinazzola sta bene gioca spinazzola punto basta e stop io la certezza non ce l'ho io sono convinto di quello che ti dico io no è un rincarzo per nulla poi dipenderà l'impatto del calciatore con De Rossi nel suo ultimo periodo mettiamola così a me non è che mi convinca poi così tanto devo essere onesto è questione di onestà intellettuale non è al top cioè ho visto altre prestazioni del calciatore ho visto momenti decisamente migliori da parte di questo calciatore ma come dici te c'ha 32 anni c'ha ancora qualcosa che può dare dal punto di vista economico da quello che ho capito perché ancora non so travelate le cifre ufficiali è prestito gratuito con diritto di riscatto tra i 7 gli 8 massimo 10 milioni di euro ma non so se inseriranno bonus o meno se dovesse inserirsi in un certo modo io ce farei in pensiero pure per l'anno prossimo però intanto fammelo arrivare fammelo vedere come sei integra e come gioca e poi pensiamo al resto soprattutto c'è in tassello in più che ad oggi con noi che ci si scocciano arriva se scoccia però per dire no noi che ultimamente insomma no siamo sempre con la coperta corta già che dal punto di vista numerico metti in giocatore che c'è esperienza che ha militato comunque in squadre importanti allora non solo è un pezzo in più ma secondo me è un pezzo che proprio te manca perché tu quel tipo di calciatore non ce l'hai in squadra un terzino puro degno di poter essere chiamato così soprattutto Mancino te manca non ce l'hai quindi ben venga Angelini sai qual è la mia unica paura mo te lo dico lo svelo qui a non so quanti guarderanno sto contenuto però resti tra noi non andatelo a dire in giro te lo dico anche io non so se è la stessa vai che si chiama Jose Angel in realtà sì Piris era spagnolo o no? no Piris no era paraguayano ah era paraguayano se non mi sbaglio ma Jose Angel lui si chiama in realtà è l'ultima volta che è arrivato un terzino spagnolo sinistro spagnolo a noi insomma un po' de beh perché è arrivato con tutte altre aspettative tecnicamente lui secondo me è più bravo Jose Angel vabbè ma ci voleva poco non c'era neanche bisogno di dirlo però tecnicamente mi sembra un po' mi sembra un po' più scuola spagnola se così vogliamo dire scherzi a parte volendo fa tutti i giochi del caso con i nomi eccetera ma Angeligno comunque il suo mestiere lo sa fare è un calciatore se Angel non lo sapeva no infatti si è visto che fine che ha fatto Angeligno parliamo secondo me di un calciatore proprio completamente diverso che non si possono neanche accostare nella stessa frase voto il rapporto qualità prezzo è in prestito quindi gratuito con diritto di riscatto non è manco obbligo a meno che non hanno modificato in corso d'opera ma è impossibile io per l'operazione otto per l'operazione in sé per quanto poi qualche dubbio su quello che ci può dare ce l'ho quello poi è un altro discorso ve lo dico onestamente sarei falso a dirvi ah che bel no però per me è da otto perché in un calciopercato in cui ci abbiamo disponibilità per motivi di fair play finanziario rientrare nei paletti e via dicendo ma chi ha che te cioè cogliere l'opportunità del Galatasaray che non lo vuole riscattare ha fatto fare tutte le presenze e quindi non lo può manco più fa giocare trova l'accordo con l'Ipsia con una cosa positiva per te è un'opportunità esatto è una grossa opportunità ma chi ti dà i tersini in prestito gratuito a gennaio raga ma chi ti dà un tempo un tempo dei decrisi è ok per quello che può dare dica la verità io manco sei e mezzo io do sei so che tu darai un voto più alto cinque no no do un voto veramente più alto per me è da sette e mezzo addirittura da sette e mezzo sei molto fiducioso sul calciatore per me sarà titolare non so convinto ma sai perché perché tante volte sono rimasto scottato da nomi che pensavo potessero far bene è perché se deve rilanciare perché è l'ennesimo calciatore rischio opportunità barra rischio ma rischio alto così come ti ho detto De Rossi che arriva alla Roma senza esperienza è un rischio ti dico Angeligno che arriva alla Roma in un momento in cui non sta passando il suo miglior momento in assoluto per me è un rischio e i rischi di solito a noi vanno sempre dalla parte sbagliata io sinceramente la vedo molto più semplicemente come un qualcosa Angeligno che non ha mai funzionato cioè quindi io non credo che Angeligno abbia grosse colpe o comunque anche se ce l'avesse credo che basti cambiare aria cambia un pochino aria e probabilmente si ritrova io la vedo un pochino più semplice un po' più fiducioso non fai il titolare manco al Galatasaray c'è da dire quello non so c'è da dire anche io non mi ricordo infatti mi ricordavo non è un Marcantonio dice ce n'hai tanti dice no è piccolino c'hai il Cristensen che De Rossi porta a sinistra e a destra a livello a me quello preoccupa ti dico la verità dal punto di vista per quanto poi giochi a difesa a 4 e non lo metti a tutta fascia anche se lo può fare mi preoccupa quello cioè la fisicità della serie A quando non quando è chiamata a attaccare quando è chiamata a difendere ho paura che da qua parte senti abbiamo avuto per anni Florenzi terzino destro e soprattutto questo ha fatto la Premier questo ha giocato col Manchester City ragazzi possibile che non riesca a regge per quanto sia fuori forma per quanto sia quello che cazzarola vi pare più che altro secondo me è una cosa psicologica adesso del ragazzo possibile che non riesce a regge un campionato come quello della serie A per me è follia per me è una cosa folle forte dal punto di vista fisico si è sicuramente svalutato negli ultimi anni ma secondo me quanto valeva? a 40 c'era arrivato a 35 se non mi sbaglio mi ricordavo che era una belba 35 mi ricordavo che c'era un periodo che era una belba per il terzino è veramente tanta roba io credo che per noi possa essere molto utile meglio De Vigna dice noi meglio a sto punto provare Angeligno per quanto poi voglio bene a Vigna bravo ragazzo e tutto quanto però con noi non ha funzionato non ha mai funzionato purtroppo che poi esce Vigna 8 e praticamente il diritto di riscatto lo copri esatto lo copri ipoteticamente c'hai già il soldino da parte se va bene poi se va male va a fanculo pure Angeligno riscattiamo Angeligno l'anno dopo lo giriamo in prestito al Sassuolo e poi non lo rivogliamo e poi andiamo a pescar il Galatasarai qualche altro terzino che sta a pagare e non il calciatore ex Milano perché quello era un fenomeno grazie per la visione ciao ragazzi alla prossima la vostra qui sotto nei commenti ciao